Sull'approvazione del bilancio regionale ogni anno è corsa l'ultimo giorno e anche quest'anno le polemiche non mancano. La maratona è iniziata, ma la commissione bilancio saltata ieri e riconvocata oggi ha fatto inviperire le opposizioni, dure con la maggioranza di centrodestra. Si attende entro la fine dell'anno l'approvazione del documento contabile più importante, già avvistato dalla Giunta, da 6 miliardi. Per l'assessore al bilancio Guido Liris, sul Maier Parlamento e in pratica dimissionario, è l'ultimo atto. Riconsegna una regione sana, dice. Siamo una regione virtuosa, siamo una regione che è tornata in Bois, con una conservazione dei livelli di servizi per quanto riguarda sanità, scuola, lavoro, anzi implementati rispetto agli aumentati costi, non soltanto energetici, ai quali siamo andati incontro in particolar modo negli ultimi anni e con un'attenzione particolare, soprattutto dopo i fatti della tragedia di Ischia e altre tragedie che hanno colpito la nostra nazione per quanto riguarda la protezione civile con 11 milioni in più nel prossimo riegno e con il dissesto irrogeologico dove abbiamo postato ulteriori 20 milioni nel prossimo riegno. E quindi i cittadini abruzzesi, anche in vista di prossimi scossoni, Sossoni, anche quelli dovuti al caro energia, possono dormire suoni tranquilli proprio perché hanno un ente completamente risanato, completamente in Bois, come direte, credibile all'esterno, completamente ben apprezzato. In realtà per le opposizioni la Giunta ha approvato troppo tardi e per loro una manovra da 6 miliardi non può essere liquidata in così poco tempo. In realtà per le opposizioni, al di là dell'approvazione o meno, mancano comunque voci importanti tra le maglie del bilancio. Il bilancio è il documento più strategico della Regione, la non approvazione in tempo, farebbe scattare l'esercizio provvisorio, anche se per la maggioranza il rischio non c'è. Lunga, ma in realtà loro l'hanno reso molto corta, perché l'hanno approvato con estremo ritardo, compromettendo la possibilità da parte delle opposizioni di poter esercitare il ruolo di controllo e soprattutto di confronto. Un bilancio di 6 miliardi di euro che ci è stato dato soltanto qualche ora fa e che in quattro giorni deve essere approvato. Un po' come sta facendo la Melonia a livello nazionale. Si discute della legge finanziaria degli abruzzesi, ci sono tantissimi risorse in più rispetto agli altri anni per un lavoro fatto ormai da 10-15 anni e non si dà nessuna possibilità di potersi confrontare sugli stanziamenti che riguardano ovviamente gli abruzzesi a partire dal tema del caro energia. Secondo me all'interno del bilancio mancano quelle che sono attualmente le necessità e tantissime criticità che stanno affrontando gli abruzzesi. E' notizia di queste ore, notizia di questi giorni che nell'ultimo periodo 56 mila abruzzesi nell'ultimo anno hanno scelto di andare in realtà diversa dalla nostra quindi vuol dire che in questa non trovano risposte e notizia anche di oggi che c'è un 30% in più di famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese e che non riescono più a sostenersi e quindi forse l'impegno e la programmazione politica dovrebbero rivolgere lo sguardo in questa direzione.